Io sono Vitangelo Moscarda, figlio del FU Antonio Francesco Moscarda, azionista di maggioranza della omonima banca Moscarda. Una mattina, incidentalmente, mia moglie mi ha fatto accorgere che ho il naso che mi pende verso destra, non solo, ma ho le sopracciglia del centro circunflesso, le gambe un po' storte, un lobo dell'orecchio più sporgente dell'altro. In effetti un poco mi pende, il naso, le sopracciglia, l'orecchio. Il mio pavoncello. In tutto ciò non avvilirti, Gengè. Vieni qua, rimani pur sempre un bel uomo. Grazie, grazie a tante, grazie a tante. Insomma, tante crisi, tante frantumazioni, tanti io, perché in tanti mi vedono in maniera diversa, quindi io non so più chi sono io, debbo scoprirlo disperatamente e lo scoprirò, lo scoprirò, fino a costo di annullarmi, di rendere me stesso un oggetto, così come può essere una nuvola, come può essere un libro, come può essere il vento, come può essere un albero. Ecco. Guarda, Vitangelo, io non te la faccio passare così. Senti, non ti ci mettere anche tu adesso, eh? Guarda che qui abbiamo un problema grosso. Non me ne frega niente del problema, io voglio conto e ragione dell'offesa su mia moglie. Ma sì, ma se è così, guarda, non io, ma tu, tu dovresti stare così, così, davanti a tua moglie, così, in ginocchio, così. Non solo tu, ma tu, io, lui, tutti, così dovremmo stare di fronte ai cosiddetti pazzi. Perché non andate là nei manicomi dove sono ricoverati i pazzi a sentirli parlare, ma invece non ci andate. No, non ci andate, e lo vuoi sapere perché? Perché vi conviene che non parlino i pazzi. Che cosa diceva di te, tua moglie, prima che tu la facessi rinchiudere, eh? Che eri un libertino, un ladro, un impostore. Era la verità oppure no? Ma che verità? Ma che verità? Erano menzogne, vaneggiamenti di una povera infelice, cose impossibili da credersi. Impossibili da credersi? Guardami negli occhi. Guardami negli occhi, impossibili da credersi. Era la verità o no? No, sta zitto tu! Sta zitto perché non sto parlando con te. Guardami negli occhi, era la verità o no? Guardami! Non ti guardo, perché mi sembri folle. Ah, benissimo, benissimo! Hai sentito, no? Hai sentito? Sembro folle. Quindi quando uno dice la verità, subito diventa pazzo. Benissimo.